Cari amici di Mega ZPM, siamo in compagnia di Pablo Mongero dell'Asti Calcio A5, categoria allievi 96-97. Oggi hai fatto una prova con la rappresentativa per andare lì a Fiuggi mi pare, come ti è sembrata questa? Bene, è una cosa interessante, si gioca con altre persone, si conoscono altri metodi di allenarsi, è una cosa interessante, poi è anche una bella cosa sentirsi tra i migliori del Piemonte. Come ti è sembrato l'allenamento dei portieri? Bello, molto professionale, ci ha fatto provare più o meno tutte le situazioni, un modo per vederci in tutte le situazioni e ci corregge sugli errori, quindi molto bene, molto professionale. molto professionale. Si, ti ha soddisfatto di tutto questo. Si, si. Quindi spero di poter ritornare e far parte di questo gruppo come vorrà. Ovviamente, certamente. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Ok, va bene, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.